GF VIP 2018, dopo il bacio tra Jane e Delia, il fidanzato dell'attrice Gianmarco posta un amaro sfogo su Instagram. Gianmarco Amicarelli, fidanzato della GFina Jane Alexander, si sfoga amaramente su Instagram e commenta quanto sta accadendo all'interno della casa del GF VIP 3 tra la compagna ed Elia Fongaro. Il musicista ha voluto far sapere di essere al corrente di quanto accaduto nelle ultime ore e di aver assistito al tanto chiacchierato bacio tra Jane e Delia. L'uomo, ancora incredulo nel veder la fidanzata perdere la testa per un altro uomo all'interno della casa di Cinecittà, ha espresso su social tutta la sua delusione per il comportamento di Jane. Il fidanzato di Jane, amaro sfogo su IG, non si finisce mai di conoscere una persona. Il musicista Gianmarco Amicarelli, fidanzato dell'attrice Jane Alexander, dopo quanto sta accadendo nella casa del grande fratello VIP, tra la sua compagna e l'ex velino Elia Fongaro, esprime tutta la sua delusione e amarezza in un post pubblicato su social. A corredo di una foto, Gianmarco scrive, non si finisce mai di conoscere una persona. Ognuno farà i conti con se stesso. Parole dalle quali traspare tutta la delusione per l'atteggiamento della compagna, che lo ha lasciato senza parole. Amicarelli prosegue nel suo lungo sfogo ribadendo il fatto di non voler parlare della sua vita privata per farne uno show, a differenza di altre persone che stanno facendo soffrire noi che stiamo a casa. Io cammino a testa alta, dichiara ancora l'uomo, il quale fa intuire come anche il figlio di Jane Alexander stia soffrendo per la situazione venutasi a creare nella casa del grande fratello VIP. GF VIP, bacio tra Jane Alexander ed Elia Fongaro. Nella casa del grande fratello VIP è arrivato infatti il primo bacio tra Jane Alexander ed Elia Fongaro. I due, che si sono corteggiati nel corso degli ultimi giorni, hanno rotto gli indugi, complice un gioco messo in atto dagli autori del reality. Nello specifico, è stato chiesto a Jane di fare una cosa che si sentiva di fare in quel momento e l'attrice senza pensarci due volte, ha dato il primo bacio all'ex velino. Ma non è tutto perché è stato proprio Elia a stupire gli altri inquilini della casa di Cinecittà, quando alla domanda di quanto fosse preso da 1 a 10 da Jane, lui ha risposto 8. Fongaro con questa dichiarazione ha smentito tutti coloro i quali credevano stesse prendendo in giro la bella attrice italo-inglese. Immagini e dichiarazioni a cui ha assistito da telespettatore anche il fidanzato dell'attrice Gianmarco, il quale come prevedibile, non ha preso bene quanto accaduto tra Jane e Elia. Immagini e dichiarazioni a cui ha assistito, non ha preso bene quanto accaduto, non ha preso bene quanto accaduto.